martedì 29 giugno in occasione della festa del patrono la parrocchia di san paolo al vallato di fano ha invitato tutto il quartiere alla posa della prima pietra per la casa della comunità don paolo tonucci la costruzione di circa 600 metri quadri sorgerà adiacente alla parrocchia e sarà un punto di riferimento per tutto il territorio presente per l'occasione anche il sindaco di fano massimo seri che dopo un intervento ha firmato la pergamena all'interno della prima pietra questo momento molto importante per la parrocchia per la comunità ma la comunità e la città e questi sono momenti forti di grande valore la casa della comunità la casa ha un significato profondo che coinvolge tutti la casa è il luogo dove abbiamo gli affetti dove troviamo rifugio dove ci rilassiamo dove riflettiamo dove stiamo con le persone care allora una casa della comunità è una casa dove ognuno si sente a casa propria e come ho avuto modo di dire può essere la seconda casa per tanti ma per alcuni può essere anche la prima casa perché significa che in questo luogo questo spazio collettivo ognuno si sente a casa propria sa che trova sempre qualcuno che lo ascolta e lo considero una persona importante questo è il valore più grande il valore di una comunità dopo la messa all'aperto presieduta dal vescovo si sono susseguite le testimonianze da parte di chi ha conosciuto don paolo per spiegare al meglio la figura a cui verrà intitolata la nuova costruzione tra sarti ha fortemente sostenuto il progetto già da tempo ed ha il pieno sostegno insieme a tutta la diocesi attenzione al territorio mi ha portato qui a sentire anni fa il bisogno guardando sugli occhi con qualche amministratore che oggi non c'è più dentro al comune però si è pensato che qui era necessario dare dignità a questo popolo di giovani di ragazzi anche con una struttura dignitosa decente ma soprattutto a normativa di legge la casa della comunità sarà costruita grazie all'otto per mille alla chiesa cattolica ed è il frutto di un confronto sempre costruttivo con la cei sì ma è un confronto onesto perché mi conoscono bene non ci sono raccomandazioni basta pure il problema e stare ai patti ai parametri e anche soprattutto alle metodi costruttivi che siano di non di lusso ma di necessità perché poi lusso domani si paga nella manutenzione il parroco don francesco pierpaoli crede molto nella funzione della casa della comunità come valore aggiunto per tutto il quartiere e il nome di don paolo tonucci ha un significato ben preciso non vorremmo ricordare don paolo tonucci ma la chiesa a cui don paolo tonucci era legato un prete che sapeva stare in mezzo alla gente che soprattutto metteva al primo posto le persone e dopo le strutture quindi vorremmo che veramente la casa della comunità fosse una casa accogliente la casa di tutti e specie di quelli che fanno più fatica a ritrovarsi a vivere credo che in questo territorio ci serve proprio anche uno spazio bello perché la bellezza alla fine aiuta anche educarsi a crescere e ama e a maturare i sogni della propria vita allora don paolo tonucci è un prete che è riuscito a partire per lui per andare incontro ai poveri in bertasile per andare a sostenere chi aveva diritto alla terra e non l'aveva allora noi dovremmo fare magari anche pochi metri ma anche qui a fanno abbiamo situazioni di questo genere e la comunità cristiana non può solo preoccuparsi di fare il catechismo o di fare le prime comunioni se poi questa eucaristia non la condivide e non la partecipa in senso di giustizia e nella ricerca della pace quindi don paolo tonucci per noi è questa immagine di chiesa casa accogliente